Pioniera delle beauty influencer, lei ha una fedelissima community di oltre 3 milioni di follower, Clio Makeup Ciao Melita, grazie mille Come stai? Bene, carica, carica per questa settimana Anche perché tu ormai sei di casa qui a Sanremo Terzo anno per me, sì Infatti tu arrivi oggi con un sacco di novità da raccontarci qui a Sanremo Ma non è che sotto sotto, visto che al terzo anno vuoi proporti come cantante ed è un segreto? Io adoro cantare, però sono stonata come una campana Però se tu chiedi in ufficio, sanno che ci sono Perché c'è la musica che parte e io che canto come una pazza Poi se spegni la musica, si... Cornacchia Però io adoro cantare Qui se vuoi hai spazio R101, se vuoi proporci un brano Ma magari Allora, quest'anno arrivi con un sacco di novità con la tua Clio Car Vuoi raccontarci qualcosa? Clio Car è il secondo anno che facciamo la Clio Car, quest'anno è ancora più grande Questa macchina brandizzata Clio e ovviamente Radio Mediaset Con la quale giro per Sanremo e intervisto a modo mio i cantanti A modo mio A modo tuo Ma perché c'è sempre la parte comunque beauty, wellness, che è il mio mondo alla fine Quindi sono domande magari un po' più personali E riferite anche all'estetica del personaggio Ogni tanto scappa qualche gossip, qualche segreto o restate solo nel mondo? Sì, però siccome le registriamo, quelli li tengo per me, non li faccio uscire Abbiamo una super notizia che sarai l'art director e curerai il look make-up di Roseville Brava Come è nata questa combo fra voi due? Due personaggi completamente diversi, no? Sembrerebbe, in realtà abbiamo tante cose in comune Noi ci scrivevamo già da un po' perché comunque entrambe abbiamo vissuto per tanti anni a New York Mi piaceva la sua estetica, mi piaceva il suo modo di cantare ovviamente E appena ho letto i nomi dei big, le ho subito mandato un messaggio e le ho chiesto Guarda, le ho detto se non hai ancora uno sponsor, se stai cercando Io ci sono Io ci sono, dimmi chi devo contattare, mettiamoci a lavorare Lei mi ha mandato un contatto, abbiamo iniziato questa conversazione E alla fine oggi sì, la seguirò durante questo festival E sono felicissima perché il punto in comune in realtà è che entrambe Siamo molto fedeli al nostro personaggio, abbiamo la nostra da dire Non ci vogliamo far stravolgere E quindi è veramente un lavoro a quattro mani Ma sarà un look bizzarro? No Come insomma solitamente fa vedere In realtà no, lei vuole apparire invece un po' più semplice Perché dice già comunque ho i capelli azzurri Magari le persone non sono abituate e non mi conoscono ancora Mi voglio far conoscere per come sono io Che ha questi due lati, il lato rose più dolce E il lato villain che è il lato che esce quando è sul palco Un pochino più aggressivo Ma c'è qualche altro artista invece che tu non vedi l'ora di vedere sul palco Anche per rubare qualche look, qualche idea? Beh sicuramente Annalisa Annalisa? Sì, l'adoro E vabbè conosco benissimo la sua truccatrice E siamo amiche E quindi so già che anche lì ci saranno dei look fantastici Tifferai per Annalisa o c'è qualche altro cantante Che entra nel tuo Fantasarremo Ma loro due sono già nel mio Fantasarremo Sia Rose che Annalisa assolutamente Però diciamo che io ascolto le canzoni Quindi non voglio partire già pensando di come l'anno scorso Alla fine l'anno scorso non avevo ancora l'idea chiara L'inizio sentiamo le canzoni Lasciamoci emozionare Ma c'è qualcuna, andiamo di gossip C'è qualcuna che secondo te ha una domanda un po' cattivella Eccola Se tocca proprio male male lo diciamo sotto voce No, no, secondo me no Anche perché quest'anno ci sono dei grandi nomi Dei grandi truccatori dietro ogni artista Quindi assolutamente no Ma c'è qualche artista che invece si trucca da sola Invece vuole apparire un po' Ma io so che Loredana Berdet Tende a mettersi lei tutto quello che vuole I suoi look se li fa lei Vabbè lei può Lei può assolutamente È una grande Invece che colori domineranno per il 2024? Secondo me tutti i colori nude Quest'anno vanno tanto le basi Anche molto più naturali rispetto agli altri anni Quindi comunque abbiamo questi look un po' glass, skin, second skin Quindi tutto quello che è più naturale rispetto magari al contouring Al quale siamo stati abituati per tanti anni È vero Allora Clio noi non vediamo l'ora di vederti per le strade Di Saremo con la tua Clio Care Ti facciamo un grande in bocca al lupo Grazie mille Un bacione Ciao